Con questo video disegniamo un pentagono a partire dalla misura del lato ancora una volta utilizzando il metodo della semicirconferenza come abbiamo visto nel caso della costruzione dell'esagono e dell'ettagono nei video precedenti. Il procedimento è sempre lo stesso per qualunque tipo di poligono. Vediamo la procedura. Stiamo utilizzando un foglio di 24 x 33 cm. Disegniamo come al solito una linea orizzontale, ci poniamo una distanza di 7 cm dal margine inferiore della squadratura. Disegniamo dunque questa linea sulla quale andiamo a individuare il segmento corrispondente alla bassa del pentagono, di lunghezza per esempio 7 cm. Quindi ci poniamo più o meno al centro del foglio. Abbiamo questo segmento i cui estremi indichiamo con le lettere A e B. Allora ci proponiamo ora di individuare il centro di questo segmento, il punto medio, e quindi di tracciare l'asse di questo stesso segmento. E allora compasso. Centro in una delle estremità, per esempio il punto B, con l'apertura fino all'altra estremità e tracciamo due archetti. 1 e 2. Centro nell'altra estremità, quindi nel punto A, con la stessa apertura e tracciamo questi altri due archetti. Gli archetti si incontrano in questi due punti che andiamo a unire. Questa linea rappresenta l'asse del segmento AB, che interseca il segmento AB nel suo punto medio M. Bene. Ancora il compasso. Centro nel punto A con l'apertura fino al punto M e tracciamo questa circonferenza, questa semicirconferenza, che è la semicirconferenza da cui prende il nome il metodo che utilizziamo. E va divisa in cinque parti, dovendo noi disegnare un pentagono. E allora come dividere questa semicirconferenza in cinque parti? Allora noi abbiamo questo angolo, che è un angolo piatto, quindi 180 gradi. Allora se dividiamo 180 gradi per 5, otteniamo questo angolo che è di 36 gradi. È un numero intero. Quindi dobbiamo riportare tante volte, cinque volte, 36 gradi. Quindi individuiamo gli angoli di 36 gradi. Ancora 36 gradi più 36 gradi, quindi 72 gradi, 72 gradi più 36 gradi, 108 gradi, più ancora 36 gradi, 144 gradi, più ancora 36 e ovviamente arriviamo a 180 gradi. E allora posizioniamo il goniometro con il centro esattamente nel punto A, centro della semicirconferenza. Posizioniamo la tacca dello zero esattamente su questa linea orizzontale. E individuiamo questi angoli di 36 gradi, quindi qui abbiamo 30, 35 e 36 gradi. Poi 72, qui abbiamo 70 più 2 gradi. 108, qui abbiamo 105, 108 gradi. 144, qui abbiamo 140 e quindi più 4 gradi e qui 180 gradi. Bene, uniamo questi punti allora con il punto A. Bene, queste linee individuano sulla semicirconferenza i punti 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Punto che coincide col punto M. Ora, questa prima linea non ci servirà per la costruzione del pentagono. E vediamo come si procede. Compasso. Apriamo il compasso di un'apertura uguale al lato AB del pentagono. Quindi centro in B, apertura fino al punto A. Quindi centro ancora in B e disegniamo questo archetto, che interseca la linea che passa per il punto 4 in questo punto, nel quale andiamo a centrare e tracciamo quest'altro archetto, che interseca questa linea in questo punto che è un altro vertice del pentagono. Poi ancora centro nel punto A e tracciamo questo archetto, che interseca in questo punto la linea che passa per il punto 2. Infine centro in questo punto e tracciamo quest'altro archetto. Bene, abbiamo individuato tutti i vertici del pentagono, che ora possiamo andare a unire. Ecco, abbiamo dunque costruito il pentagono di vertici A, B, C, D ed E, utilizzando questa semicirconferenza, divisa in un numero di parti corrispondente al numero di lati del pentagono. Bene, titoli. Ecco, abbiamo dunque disegnato la costruzione di un pentagono regolare, dato il lato, lunghezza 7 cm, utilizzando il metodo della semicirconferenza. Possiamo fermarci qui, buon lavoro.